Mio nonno raccontava due sole barzellette nella sua vita, sapeva, però le facciamo ripetere sempre, questa la faceva nel periodo di Pasqua e diceva sempre, siamo in paradiso, ci sono le elezioni e a un certo punto fanno lo sfoglio, tutti dici, 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 un solo voto per Bertinotti, San Pietro, arrabbiatissimo, e chi può essere? E chi può essere? E come mai? E sto Bertinotti è comunista, un comunista in paradiso, ma chi ha votato? Quindi continua a chiedere, a un certo punto qualcuno dice, io un'idrea ce l'avrei, dice, ma chi? E in paradiso abbiamo un solo lavoratore, che è Giuseppe, quindi bisogna convocarlo, lo convocano, dice, Giuseppe scusa, ma tu sei l'unico lavoratore qui, quindi i lavoratori in paradiso non vanno, Gesù lo dice, lavoratore qui te ne devi andare, non è possibile che un comunista, hai pure votato Bertinotti, sei proprio estremo, dice, ma come? Te ne devi andare, te ne devi andare perché in paradiso i comunisti non sono ammessi. Allora, Giuseppe ha virato, si gira verso Maria e dice, Maria, mio nonno la raccontava in dialetto calabrese, io ve la faccio in Italia, Maria, prenditi Gesù bambino e andiamoci, che voglio vedere quest'anno questi vagabondi che non lavorano come lo fanno il presente. Grazie a tutti.